Codici affini. Com'è divisa l'umanità incarnata? Commento. È divisa in comunità fisiche che comprendono milioni di individui che hanno codici affini. Nell'ambito delle comunità fisiche i popoli sono collettività che hanno nei loro codici delle affinità. Nell'ambito di un popolo i parenti sono individui che hanno nei loro codici un'ulteriore affinità.